Se c'è qualcuno che vuol dire la sua parola, parli pure. No! Non dici che l'è mai andata? Noi dopo la mattina, che non è la prima era, so che non! Boh, io non ho capito un caso. Ui, che termini! Ho capito io, perché il mio papà, l'era di Berga, manca lui, poverone. Propone che invece di uscire un'ora prima, domani mattina, per essere uniti, entriamo tutti un'ora dopo. Dici un'ora, guarda che gli scalpo io porto il 46. Il berga masco. Ciao, ciao! Mi mando il comitato! I padroni mora! Io lo sparlamentà! Ma con l'accripio dici, chi è che vuole parlamentare? I padroni, i padroni, han chiamato il comitato! I mora! Siamo a cavallo! Ti mando un bacino!